Ready or not, here I come, you can hide, gonna find you and take it slowly Ma, ma, ah, non so cosa dire Devi dire ciao vlog Ciao vlog, questa è la storia di quattro ragazzi che vogliono fare una grigliata Ma siamo in cinque Ma ti hai spoilerato tutto No, sono in cinque perché c'è anche Nick che non compare No, no, compare, compare Beh vabbè, l'insulto di questo, di questo coso è che Vai Posso? Ciao vlog L'insulto di questa cosa è che Che per la prima volta nella vita dello YouTube Sì Faremo un vlog Uno Un gregliato Faremo una gregliata E vogliamo invitare i nostri teleaspettatori A venire a questa gregliata Quindi questo è un altro sondaggio È una richiesta, sì A fare questa gregliata Posso fare una domanda Chi vuole venire alla gregliata ce la faccia sapere Esatto, ancora iniziamo Posso fare una domanda? Chi ci ha invitato? No Perché io sono qua? Perché c'è freddo Non so niente Alzatemi Alzatemi Voi apriamo un canale anche noi Aprite un canale anche voi Sì Che facciamo? Apriamo un nuovo canale Facciamo puli Gli amici della Marica Gli amici della Marica Pensa te che il proprio del pubblico No, aspettiamo gli iscritti Facciamo da spot Facciamo i canali tipo Satelli Agganciati Quelli che danno la bomba Va bene, dai, salutarmi No, sono giù due minuti Ciao, ciao Ciao a tutti L'allenoce dell'hotelli è Cri, cri, cri Posso vuol dire Cri No Benvenuti nel vlog di Giulio Yes Oggi è il primo giugno È un lunedì E quindi visto che lui stranamente domani non lavora Perché Domani è il 2 giugno Ecco, buono Stiamo andando a fare una notte a Rimini Quindi ora ci troviamo in autostrada Dove siamo adesso? Sì Sì Siamo in autostrada E stiamo andando appunto a Rimini Che passeremo una notte Perché io gli avevo preso il pacchetto smartbox Al signorino per il compleanno E quindi passeremo una giornata là Praticamente arriviamo Dopo possiamo andare nel loro wellness spa Quello che hanno Che c'è dentro il pacchetto, no? Tipo piscine, cose del genere E poi io direi di andare anche al mare Intanto Intanto E dopo ovviamente passeremo una notte lì E domani poi ripartiamo Una roba easy Cioè Una notte Domani sarà 9 Domani sarà c'è già le prove Quindi Sicuratevi voi quanto stiamo via Però dai Intanto questa ce la facciamo Visto che non andiamo mai via E bu A posto Allora adesso noi proseguiamo che Arriveremo verso 12 e mezza Adesso sono ancora 5 alle 11 Quindi Abbiamo ancora un pochino di strada E poi ci vediamo Spero in spiaggia E da qualche parte a Rimini Siamo arrivati E adesso però si mangia un po' qua A mangiare allo sushi Vedi è un caldo buono io Perché è di fronte all'hotel Quello lì Il nostro hotel Come non si vede Non è quello? Si invece E dopo vi faccio vedere cosa mangiamo Ma non è vero Bernie guarda C'è la tua macchina E' vero c'è la Giulietta che piace a Bernie Mi sono superata di riprendere Comunque ho preso il menu sushi Lunch E lui il menu experience Siamo arrivati in hotel Alla stanza La numero 408 Ok Beh il mio che gioca con le luci Perfetto Yes Io sono qui Ciao E questa è la stanza C'è la boquette A me piace tanto la boquette E questa Ecco Avevo chiesto per me di togliere lo zaino E lui deve rovinare tutto col suo zaino Del cavolo Via Lo zaino Giù Questo è il letto Si presenta Così Ce l'abbiamo già provato per questo Che è disordinario Qui c'è qualcuno che fischia Dai valla Questa è la doccia Come vede bella grande Mi piace Mi piace Ci piace Stamincchia Te l'ha fatto partire il video Tu parte con queste parole Comunque mi sono scordata di dirvi Che c'è anche la terrazzina qua Questo piccolo Salve qui dei miei vicini Con questa piccola terrazzina Salve Mi starete chiedendo Ma come fate ad andare così veloci? Ma come fate ad andare così veloci? Ho una forza motrice che sembrano Quattro chiriceti 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 Beh comunque c'è lei Ciao Sta pedalando per uno set Oddio Oddio quello lo voglio Prendiamo quello Comunque siamo su una specie di cose E la gente ci guarda malissimo Ma non so come si chiama Io ho un pedalo Io non ho un pedalo È quello che va nel lago È un pedalo da strada È bello che continui a girare Ma io non sto guidando Io che guida E io sto convintando che girando vada Sì sì prova vai 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 Gira Gira Tipo Fast and Furious È la gente che ci guarda malissimo Oddio Ti penso alla signora Io adesso Frena 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 Come faccio? Frena frena tu Ok vai No troppo Troppo Ciao 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 E' tu Ma ci sono di sole Il padrone di cattolico Senti, sembra un disco dance, e tu? Qui sono le 11 e un quarto, vieni in qualche secondo si capisce Sono le 11 e un quarto, e vi appena fai di mangiare Sì, anche perché il signorino ha detto, andiamo a vedere i primi centro Mettiti in controluce, perché sennò spori comunque Andiamo a vedere i primi centro se c'è qualcosa In centro non c'era niente, quindi abbiamo fatto tipo 3 km per nulla E siamo dovuti mangiare vicino all'hotel, praticamente, neanche 500 metri Siamo dietro, vabbè I fratelli la bufala, vabbè, e abbiamo mangiato un risotto Ciao Cin Cin, siamo in spiaggia, adesso però c'è da tornare perché sono passate già tipo 2 ore Eh sì, quindi questa è la spiaggia di Rimini, il bagno 24 Purtroppo è già finita e dobbiamo già tornare a casa Vedremo se riusciamo a fare un altro weekend, questa è estate Si vedrà Bene, dai Allora ci vediamo dopo, ciao ciao Ce ne stiamo già andando Mannaggia, mannaggia Ciao Rimini È stato bello Salve E c'è anche il Cin Cin Der Dai, fatti vedere Allora, siamo in pizzeria Stiamo per mangiare Stiamo per mangiare la pizza E spero che non mi vedano perché sennò questa è la persona che è solo poco a bolla Va bene, la vuoi facci vedere la pizza Ciao Ciao Tu hai preso una, come si chiama? Cosa è? Cosa è? Tu hai preso, no C'è un cinque Pizza Dai, vabbè, non ti fanno più di due origini, mi hai preso una margherita Ciao vlogger Ah, ciao Guarda il turass Ho riscontato Al turass Ditelo, dove siamo che c'è il turass? Ditelo, dove siamo che c'è il turass? Dai, dicati dove sei no Siamo a Cremona Allora Avanti al turass Eccola Avanti al turass A Cremona c'è il turass Il titass Aspetta A Cremona c'è il turass Il turass Il turon E? E? Ti? Il titass 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 Le zizze Le zinne Le zinne Viva le zinne Sì E qui ecco siamo nella bellissima Cremona È bella Cremona Ti piace Luca? Cremona È bella A Luca piace l'estate Cremona A me piace l'estate dappertutto Permettiamo questa cosa Poi a Cremona stasera è molto bella Specialmente Bene Specialmente 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 E si sente Bene Adesso continuiamo il nostro giro A Ciao 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 Buonasera a tutti Buonasera a tutti Ho il sole negli occhi, scusate Comunque, stiamo andando Dove stiamo andando? San Daniele? Ciao William Sì No, 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 San Daniele Verso Polesine Parmese Santa Croce Andiamo Andiamo verso la Vip Line Arredamenti Facciamo un po' di pubblicità Sì, vabbè, comunque, stiamo andando Dal suo cantante Che stasera Suonerà con un altro gruppo, con l'Avelion E Non ci teneva a sentirli, quindi andiamo E Andiamo a sentire questo gruppo che suona Sì Però prima dobbiamo cercare l'acqua Che figuato Dobbiamo cercare la pizzeria Sì, perché stasera andiamo a mangiare la pizza Perché la domenica posso mangiare la pizza Anzi, oggi è sabato Quindi, pizza sia Yes Bene Allora, io penso che possiamo aggiornarci dopo Che dici? Eh, sia Allora dopo Ciao ragazzi Ciao 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 Adesso abbiamo un freddo Stanno andando un po' di freddo Comunque Comunque niente, siamo Siamo qua Siamo qua in Colony A Brescia Non so se si vede Qua c'è la nostra amicona La nostra? Amicona Qua c'è la nostra altra amicona Ciao ragazzi Andrò su internet Comunque Comunque niente Adesso non so se mi si vede Comunque Girati qua Perchè Non sono abituato Comunque Ascoltami Allora niente Cosa siamo qua a fare? A sentire gli adeglio Ok E chi sono gli adeglio? Un concurso? Sì però devi parlare Lì non devi guardare Ah ah Non lo so Chi non è? Che la compagna del cantante Prego venga qua Venga qua No 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 devo filmare Devo filmare Eh no eh no eh no eh no eh no Ci dica ci dica Ci dica Com'è detto i filmini? Che brutte cose Com'è detto i filmini eh Ma che brutte cose E allora dai ci dica Ci dica No proprio ci dica Si vede sì o no? Gialillion Allora aspetta perchè io continuo a cambiare Allora batterista Alessandro Voce e via Tastierista Oreste Ok Bassista Danilo E chi manca? Chitarrista Leonardo Ah ottimo Perfetto E sono Strati Strani Ah ok Mi sono dimenticata per vedere che finalmente ho preso la patente E c'è casino perchè stiamo fuori comunque niente Volevo importarla nel porto e c'è muoio Yes Siamo a casa della zia di barbio Qui c'è barbio Ciao barbio Ciao barbio E qui c'è barbio Ci facciamo vedere Diudio Che bello 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 Sì, sì, sì. Hai mangiato tutta? No, Google. Secondo me gli stai simpatico. È curioso. Sì, sì, sì.